musica we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio vedere insieme a voi 7 nuovi trucchi che vi cambieranno la vita su fortnite 7 accorgimenti ragazzi che potranno migliorare tantissimo le vostre prestazioni nei fight ma anche riuscire ad uscire nelle situazioni un pochettino più complicate quindi non perdiamo tempo subito così ragazzi il trucco numero uno ragazzi la scala quadrupla che cosa vuol dire mettiamo che stiamo fightando dobbiamo fare uno scontro frontale con un avversario indicativamente diciamo che l'avversario possa essere di fronte a noi adesso vi faccio vedere dove c'è quel camion dei gelati ecco guardate un pochettino proprio là ragazzi noi cosa facciamo di solito costruiamo una scala ci mettiamo in alto proviamo a cerchinarlo alla peggio se non vogliamo fare così o facciamo anche un mini fortino tipo una scala una piattaforma e tre mura e lo cerchiamo per essere protetti e tutto è nella norma ma ragazzi guardate un pochettino se noi invece facciamo una scala due scale tre scale e la quarta la mettiamo lì davanti guardate ragazzi noi possiamo cecchinarlo mettendoci in questa posizione avete visto guardate adesso ragazzi il punto di vista del nostro avversario mettiamo che lui fosse qui come fa lui sicuramente mira in alto noi invece gli stiamo sparando esattamente da lì ragazzi ed è quindi per lui difficilissimo poter capire nell'immediato da dove arrivano i colpi sicuramente un bel vantaggio che ci porterà un sacco di hit extra nei colpi nei fight frontali e che sicuramente impiega veramente pochissimo tempo per essere eseguita quindi ragazzi il primo trucco va così ci proseguiamo ci proseguiamo non ha senso ma proseguiamo ragazzi andiamo a vedere il trucco numero due che si chiama la jump butta fuori come state vedendo ragazzi è già qui avete visto cosa ho appena fatto io ho messo una butta fuori di fianco alla jump ho preso la jump e con la spinta del butta fuori sopra la jump si va in alto molto molto di più che con una semplice jump guardate adesso vedete io ho preso una jump semplicemente e non sono andato in alto lo capiamo quando funziona perché abbiamo sotto il giocatore le scie blu del butta fuori no questo ci serve se rimaniamo bloccati magari che la safe sta arrivando non è facile ho detto prenderci un attimo di accorgimento quando arriviamo magari che la safe sta arrivando e non abbiamo modo di scappare se noi abbiamo butta fuori e jump guardate andiamo su tantissimo e possiamo fare veramente un sacco un sacco di metri extra quindi ragazzi già due trucchi che sono semplicissimi e li possono semplificare la vita trucco numero tre ragazzi questo si chiama la piramide nel forte cosa vuol dire indicativamente quando ci sparano quando siamo sempre nei fight noi facciamo il fortino ovviamente quindi base quattro mura e tetto o anche magari ragazzi quando abbiamo vinto un fight o quando siamo nel mezzo di un fight e dobbiamo curarci noi facciamo così e facciamo la scala centrale per essere un po protetti il piano sopra il problema ragazzi è che noi siamo scoperti da tre lati avete visto il lato questo davanti il lato di fianco è il lato di fianco se noi ragazzi quando facciamo un fortino guardate noi facciamo il solito fortino mettiamo il tetto e al posto che crea una scala facciamo una piramide e ne modifichiamo un pezzo guardate avete visto fa un triangolo che ci permette anche se ci sparano di poterci spostare in due lati e di essere comunque sempre protetti da un altro strato di muro di legno ragazzi o di pietra quello che sia quindi ragazzi un accorgimento semplicissimo una piramide dentro un fortino modifichiamo l'angolo più esterno fa il triangolo e noi possiamo tranquillamente essere protetti senza nessun problema andiamo avanti ragazzi con l'accorgimento numero 3 che è interessantissimo ci vuole un po di abilità per farlo ma una volta che avete imparato vi salva la vita quante volte ragazzi magari siamo in un fight e ci troviamo gente che ci sgrana con grande prepotenza guardate se noi riusciamo ragazzi a mettere una piramide sopra la granata abbiamo risolto tutto guardate io gli metto la piramide e come vedete l'impatto che ha la granata è molto molto minore rispetto all'impatto che avrebbe se non fosse protetta da nulla ma non è finito guardate ragazzi noi continuiamo a tirare le granate ci mettiamo sopra le piramidi noi ci mettiamo sopra e non subiamo danno ragazzi se riusciamo a coprire una granata con una piramide noi non abbiamo nessun problema ve lo faccio rivedere guardate ragazzi tiriamo una granata copriamo con una piramide ci mettiamo sopra e non ci succede niente l'impatto della granata rimane sotto alla piramide quindi ragazzi non ci vuole molto di imparare a farlo è una cosa che vi salva la situazione sempre ma adesso ragazzi arriviamo davvero nella parte interessante il trucco numero 5 ragazzi è una cosa che è un po meccanica da fare ma è meravigliosa costruiamo ragazzi un classico fortino 3x3 volessimo cecchinare e dobbiamo con le solite scale modifichiamo ragazzi come al solito noi cecchiamo di solito da qua con i fortini 3x3 o siamo bassi cerchiamo di cecchinare ma se noi modifichiamo la scala in alto andiamo al piano di sotto e questa scala la modifichiamo a ferro di cavallo guardate ne modifichiamo a ferro di cavallo quindi la facciamo doppia guardate cosa succede ragazzi è allucinante guardate qua davanti questo muro ci vuole un attimo per andare a prenderlo ma quando noi prendiamo il muro del secondo piano e lo riusciamo a modificare guardate ragazzi noi modifichiamo la parte sotto del muro come quando dobbiamo scappare fuori quindi due in basso e il primo in alto guardate cosa succede si crea un buco ragazzi che è meraviglioso per cecchinare guardate guardate abbiamo una visuale molto interessante possiamo cecchinare ragazzi senza problemi anche in alto e quindi gli avversari dalla loro parte faranno una fatica porca a spararci è meraviglioso ragazzi un buco che ci permette di attaccare senza praticamente essere quasi mai colpiti trucco numero 6 ragazzi il trucco della fenditura lo abbiamo visto anche l'altro ieri in live me l'ha consigliato exino e quindi ci sta come trucco cosa succede mettiamo che noi abbiamo una fenditura e vogliamo portarci via un oggetto ma vogliamo anche scappare se noi nel momento in cui usiamo la fenditura guardate siamo veloci avete visto nel momento in cui usiamo la fenditura clicchiamo velocemente il tasto per raccogliere noi possiamo raccogliere l'oggetto che vogliamo portare con noi e quindi poter avere anche l'inventario pieno nonostante abbiamo utilizzato la fenditura ma siamo ragazzi arrivati purtroppo all'ultimo trucco il trucco numero 7 il più carino secondo me è il più geniale mettiamo che vogliamo recuperare un lama o del loot o un airdrop in mezzo al lago purtroppo non possiamo notare e il problema principale del lago come fanno tutti fanno delle scale per essere più veloci ma siamo completamente ragazzi scoperti a 360 gradi quindi ragazzi o facciamo così o c'è un altro modo per fare se vogliamo proteggerci cioè prepariamo una base e poi mentre facciamo la base facciamo anche i bordi sui lati ma spendiamo un miliardo di materiale per arrivare al nostro povero lama ragazzi c'è un'idea tanto semplice quanto geniale che ci permetterà di recuperare senza problemi se noi abbiamo paura di avere il lato per esempio destro scoperto il lato sinistro scoperto basta solo che ruotiamo le scale guardate che storia e corriamo sulle scale raga stiamo correndo con un lato completamente coperto ci sparano da destra niente problema con velocità ragazzi ruotiamo le scale e abbiamo tutto il lato coperto sulla destra in questo modo possiamo recuperare il nostro lama prenderne il loot ed essere felici e contenti beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto davvero tanto ci tengo tantissimo ai vostri commenti in questo video ragazzi ci ho messo tanto 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 per prepararlo e quindi spero che vi sia di gradimento vi ringrazio tantissimo per averlo guardato un bel pollicione in su ragazzi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.